Eccolo l'assista del Trenza Palasio per la spaccata, gol da attaccante purissimo da parte di Maurito Icardi, dodicesima rete in questo campionato 53 in carriera in sarea in 114 partite. E vediamo come Gonzalez non sia riuscito ad anticipare Icardi che ha tagliato il partito nella zona di Vitiello e ha preso velocità.